Non tutti hanno scoperto le virtù dell'agrume, parliamo del bergamotto la cui produzione globale si concentra al 90% in un piccolo territorio, parliamo del cuore dell'alocride. E dopo ulteriori ricerche, gli esperti parlano dei suoi benefici per la salute e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Fa bene al cuore, consente di tenere sotto controllo il colesterolo alto, è un disinfettante naturale e aiuta le vie respiratorie. È storicamente noto per essere il prodotto base per la cosmesi della grande industria italiana e francese ed è aromatizzante e straordinario per l'arte dolciaria più raffinata, ma alcune ricerche recenti lo segnalano soprattutto come un frutto dalle straordinarie capacità curative. E nella provincia di Reggio e in particolare nella locride lo chiamano l'oro verde e in effetti il bergamotto è oro perché a fronte di una produzione molto contenuta rappresenta una scommessa economica e scientifica su cui gli operatori agricoli locali puntano in maniera decisa. Dunque grandi potenzialità e nuove scoperte da parte dei ricercatori sulle 350 componenti di un frutto prodotto di cui il 90% della produzione è ristretta in un piccolo fazzoletto di terra che va da Villa San Giovanni sullo stretto di Messina a Siderno, proprio nel cuore, come dicevamo, nella locride. 1500 ettari di agrumeti in tutto che forniscono una media annuale di 200.000 kg di bergamotto lavorato e spremuto per ottenere un'essenza da collocare su un mercato mondiale in continua espansione. Colore che va dal verde al giallo a seconda del grado di maturazione, il bergamotto ha le dimensioni di una normale arancia e l'aspetto che, ad un occhio poco attento, potrebbe apparire quello di un limone. Difficile da mangiare a causa del suo sapore forte. La sua essenza, giusto per capirci, per farne un chilo ci vogliono circa 200 frutti, è però sempre più richiesta dai mercati per gli usi più diversi. È recente l'uso che se ne fa per le sue proprietà curative. Fa bene al cuore, come dicevamo, e il suo impiego è ad esempio indicato per tenere sotto controllo il colesterolo in eccesso, contribuendo così a prevenire malattie cardiovascolari come ictus, arteriosclerosi e l'infarto. Una spremuta di bergamotto per il paziente che soffre di colesterolo alto potrebbe arrivare a significare una riduzione di farmaci dai fastidiosi effetti collaterali. Sempre in tema di benessere a capacità antiossidanti ed è applicato sulla pelle, può infine essere utile per cicatrizzare piccole ferite e combattere la micosi delle unghie.